Buongiorno vlog! Allora, cominciamo questo vlog che non so quanti giorni durerà, non ho deciso niente. Dietro di me, lo vedete, è scattata ufficialmente l'operazione prepara qualcosa per il mare. Con Pasqua dovremmo aprire casa al mare, che i miei genitori hanno preso in affitto per tutta la stagione quest'anno, e quindi dovremmo scendere già per Pasqua, che tra l'altro coincide con il compleanno di Gregorio, che è entusiasta di poter scendere al mare, solo che, come dire, questo implica anche che bisogna portare un po' di cose. Anche perché l'idea che ci piacerebbe a chi gestisce questo genere di attività, ovvero a me e a mia madre, ci piacerebbe, nel fatto che mi spazzolo, ci piacerebbe portare già giù in vari viaggi tutta la roba, in modo da non dover fare il classico viaggio della speranza a inizio giugno, quando dovremmo scendere con i bambini per sfermarci giù definitivamente, ma approfittare dei weekend di aprile-maggio, in cui dovremmo riuscire a scendere per portare giù pian piano tutto e avere già giù il set, almeno di biancheria per la casa e di cose da mare. E solo che questo implica che ho aperto stamattina, ho spalancato l'armadio e sto cercando di fare i conti di quanti kit di lenzuola e asciugamani servono. In tutto ciò, forse l'avete sentita, Dorotè è ancora a casa, perché è a casa da praticamente venerdì scorso, oggi è giovedì, da venerdì scorso, quando è uscita da scuola al pomeriggio, particolarmente raffreddata, mettiamola così, e poi ha passato un weekend piuttosto impegnativo, le è venuta una specie di congiuntivite, infatti è sotto antibiotico, colireo antibiotico, e siccome colireo antibiotico finirà i giorni sabato, praticamente a casa da tutta la settimana, e oggi però c'è mister marito che lavora da casa, e quindi è un pochino più leggera la situazione. Comunque questa è la mia attività della mattinata. Com'è? O la moto. Io c'è chi con il pasto aglio, c'è chi? No, c'è una banana. Una banana. No, è una luna. Ah, è una luna, scusa, tocca a te. Il sole. Il sole. Ah. Non devi guardare. Pensa a guardare. Eh? Pensa a guardare. La fragola. La fragola. Poca a te. Allora, la valigia l'ho chiusa. Non ci è entrato tutto. Però, vabbè, avevo messo in conto che non ci sarebbe entrato tutto. Adesso ho deciso che siccome, vabbè, ha una faccia, lo vedete, sono tornati fuori dei brufoli, ma credo sia la primavera. Più che la mascherina, secondo me è la primavera in questo caso. Però, vabbè, adesso vediamo. In ogni caso, non so se dovrò uscire per andare a prendere Gregorio oppure no, ma anche solo per vedermi un po' meglio. Ovviamente, sono pallidissima. Poi questa maglia, adesso non sono convintissima della questione dell'armocromia. Sono convinta, però, che ci siano dei colori che ci stanno meglio di altri. Questo colore mi uccide totalmente. Soprattutto se non sono... No, io non mi abbronzo, ma almeno prendo un colorito simil sano. Io in inverno sono ondeggio tra il bianco e il grigio. E questo colore qui mi uccide totale. Però è molto comoda in casa, devo essere sincera, mi piace. È pratica, ha un giusto peso. Ha una vecchia maglietta di, credo, Zara. Non lo so, ha maniche corte. Insomma, per stare in casa, fare i lavori, stare dietro a Dorotè, eccetera, va benissimo. Però poi mi rendo conto che quando faccio una foto, mi vedo nelle stories, mi sbatte moltissimo. Allora ho detto, senti, diamoci una botta di vita. Dorotè sta facendo merenda. O la seconda colazione degli Hobbit, ho decidito poi come chiamarla. Io e il mister marito ci siamo appena presi un caffè, che è il vantaggio di averlo che lavorava a casa. Tra l'altro, non so se ne abbiamo mai parlato, ma per noi era stato un cambio di vita incredibile averlo a casa. A me piaceva un sacco, perché siamo molto fortunati in casa nuova. La presa, tra l'altro, siamo entrati in casa nuova, tipo ottobre 2019, una cosa del genere. Quindi, perfetti pre-pandemia. Noi qua avevamo lo studio, quindi la stanza in più da dedicare allo studio, con la scrivania e tutto quanto. Ed è stata manna dal cielo durante il lockdown, quando lui lavorava fisso da casa. E per noi era stato veramente life changing avere lui a casa, che lavorava in studio. Perché se no lavora 40 minuti di strada, perché noi viviamo in città e lui lavora fuori città. E quindi gli orari sono diversi, se deve uscire e tornare la sera, oppure se lavora da casa. Con i bambini era stato veramente molto bello, si era piaciuto tanto. Ha! Già un'altra roba. E quindi, niente, ci siamo fatti una pausa adesso, mentre abbiamo preso un caffè, mentre abbiamo in pausa caffè. E questo ho deciso che... Questo qua. Sono degli ombretti, vi giuro, vecchi, ma non mi ricordo neanche di quando fossero. Però adesso stavo guardando tutte queste... Don't try this at home, sì lo so, gli ombretti scadono, non bisognerebbe usarli, ma questi non hanno cambiato consistenza. Sono polveri. Non hanno cambiato profumo, non hanno cambiato consistenza. Scrivono ancora. Benissimo, sono dei Lancome presi... Erano quei cofanetti che vendono negli aeroporti, ma era uno dei primi che avevo preso in viaggio. Qui di lato c'era il pennellino, io ci ho messo delle cialdine avanzate da altre palette. Ed erano pazzeschi e tuttora hanno una scrivenza micidiale. E siccome sono tornati tutti questi colori qua, finalmente l'occasione per rimetterli. Poi vabbè, diciamo che quando sono in casa mi sbizzarrisco. Ma anche uscendo l'altro giorno ho fatto, forse l'avete visto su Instagram, avevo questo azzurro qua bagnato su tutta la palpebra. Mentre invece volevo procurarmi un pennellino decente, bello, per farli diventare eyeliner. Perché se li bagnate, se bagnate il pennellino e poi usate gli ombretti vengono colorati. E invece di comprare mille eyeliner colorati, visto che ho mille palettes di ombretti, volevo sfruttare questa cosa. Ma non ho, cioè tipo questo qua, è tutto svirgolato. E non ne ho che mi piacciono, che mi convincano. Questo lavanda qua invece non mi aveva mai convinto, infatti la cialda è praticamente nuova e continua a non convincermi. Non mi dà nessuna vibe. Cioè l'unica cosa che sono sempre riuscita a fargli fare, voi non lo vedrete mai, è il punto luce centrale qua. Però la differenza tra questo e fare col bianco è tuttora minimale. Quindi, però, buongiorno, buongiorno, già meglio, già meglio, più o meno. Che vi volevo dire poi? Boh, chi se lo ricorda? Basta direi. Ah sì, no, non vi ho fatto nessuna intro da questo vlog, assolutamente randomico. Perché non ho in programma nulla nei prossimi giorni, eh. Nulla, nulla, nulla. Se non, appunto, cercare di rimettere in piedi Dorotea e di arrivare in Columi. Settimana prossima c'è Vinitaly qua a Verona, anzi alla fine di settimana prossima comincia. Dieci. Da, però, già da venerdì ci sarà Vinitaly in the city, quindi delle cose in città. Io non ho, noi dovremmo avere lo stand consortile, ma non abbiamo ancora ben capito quali sono le, le norme da mettere in pratica. Nel senso che ieri mi è arrivato un avviso dall'ufficio che diceva che non possiamo fare i banchi d'assaggio. Io, questa cosa mi perplime alquanto, però, cioè la capisco, ma non riesco poi a metterla in relazione a come quindi riuscire a gestire lo stand senza il banco di degustazione, ma solo facendo sedere le persone. Sono abbastanza, non so se qualcuno è mai stato a Vinitaly, ma... La gran parte del lavoro si svolgeva sui banchi d'assaggio, quindi, ora è un po' perpressa. Sì, la mamma sta parlando col telefono, Dorotea. La mamma sta parlando col telefono. Ti ha posto, tu? Sì. Stai facendo merenda? No. Hai finito? Ehi, 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 una salvietta, non finito. Andami qui. Dammi la cuore. Allagro! Allagro! Meglio, eh? Meglio. Se buttiamo anche qualcosa sulle labbra, che così... Altra cosa rivoluzionare al mobiletto, ve l'avevo fatto vedere su... Ma non ho guardato i panni da lavare. Ve l'avevo fatto vedere su Instagram, perché dopo due anni che in bagno non avevamo mobiletto, siamo andati dai che abbiamo preso questo standing, già pieno ovviamente. Però sono molto soddisfatta dell'acquisto, veramente. È bello, pratico. Bello. Un mobiletto del bagno, sì. Dopo due anni. Andiamo, è un'altra roba. Adesso ci pettiniamo anche, magari. Va bene. E poi riprendiamo un paio di attività. Più tardi magari vi aggiorno anche sulle letture, che su Instagram sto facendo fatica ad aggiornarvi, ma perché l'ultima settimana è stata, come vi dicevo con Dorotea a casa, abbastanza impegnativa e complessa. Proprio la gestione. Però dovremmo venirne fuori adesso. Si è preso un raffreddore di quelli veramente potentissimi. Però, avete visto, mi sembra decisamente meglio. Posso andare a mettere il collirio? Che è un po' come medicare i gatti. Se potessi metterglielo sulla mano e farglielo leccare sarebbe forse più pratico. Ma è diventata abbastanza brava a farsi mettere il collirio. Meglio di tanti adulti, secondo me. Oramai. Va bene. Leggo i capelli e vado. Mi sono appena resa conto di... Ah, qui parlo con la luce, vedete meglio il trucco. Mi sono appena resa conto di aver... Avete? Molto brava! Di aver appena registrato tutta la clip del bagno in cui parlavo, parlavo mentre mi truccavo. In verticale. Scusate, ma... L'appoggio era in verticale, non ci ho pensato. Quella è la valigia che ho chiusa. Sono rimaste fuori dei ricambi e i telimare. Ma preparerò un altro borsone. E l'idea, come vi dicevo prima, è di portare piano piano le varie cose. Tipo io poi ho là sopra quella scatola bianca. È tutto abbigliamento mare. Ma con abbigliamento mare non intendo abbigliamento estivo. Intendo abbigliamento mare. Cioè cose che io uso solo al mare. Cattani, copricostume, parei. Cose che in Cippa non uso. E farò una borsa, probabilmente il primo maggio, le porteremo giù. O la prossima, adesso vedo. Sicuramente non il primo giro. E le porto giù con i costumi, con le ciabatte, con tutte quelle cose lì. E l'idea è fare tante borse non troppo grandi. Cioè quella lì è il grosso, ovviamente. Perché sono lenzuola, asciugamani, eccetera. E poi fare delle tante altre borse medio-piccole da inserire in macchina mano a mano. Qui, aggiornamento meteo. È tornato fuori il sole. Io speravo in un po' di pioggia perché l'aria era veramente irrespirabile. Però, vedremo. Per oggi secondo me è finito, speriamo domani. C'era un motivo se non volevo cominciare a tirare fuori le cose da portare al mare. Il motivo era che poi mi prendo male e mi metto a fare tutto. A parte l'allegria delle ciabatte. Cioè ho preso il set nuovo di ciabatte per i resident, cioè chi si fermerà più tempo al mare. Ovvero, eccoci qua. Che belle sono. Cioè, so che non sono belle, ma sono le meglio al mare. Io l'anno scorso usavo queste, che sono pazzesche, belle, con tutti gli svaroschi, eccetera. Ma mi segavano le dita. Queste qui, piedi bagnati, piedi asciutti, sabbia, mica sabbia, perfette. Queste sono quelle di Mr. Marito. Le portiamo giù tanto in città, non le usiamo. E poi l'altro giorno, in un outlet qua in città, mi sono comprata queste espadrillas, tipo, perfette per girare in paese. E queste, che invece sono, le ho trovate a 15 euro, è il motivo per cui le ho prese. Perché io poi mi piacciono, ma non riesco a usarle perché sono troppo basse. Queste qua senza suola, per capirsi. E sono, vabbè, non si capisce niente, ve le farò vedere queste stagione. Eh, così. Sono tutti alla schiava, con ciondoli, pom-pom, eccetera, eccetera. Carini. Da mettere di giorno, ma anche di sera. Ho visto la mia movida al mare. Queste qua invece sono le mie ciabatte di casa. Ecco. Così inizio a mettere via anche queste cose qui, che sicuramente in città non ci servono. E le portiamo giù. Comunque, l'unica cosa che ho imparato in anni e anni di valigie, eccetera, è che, per non dimenticarsi cosa si è portato, bisogna scrivere, scusate, dei grandi elenchi. Questo tacuino, bellissimo, tacuino parola, non è che l'ho imparata nuova, ma che ho reintegrato nel mio vocabolario quando, da quando settimana scorsa, Gregorio in un esercizio doveva trovare le parole con il cq, il doppia c o cc, cc o cq, c'era tacuino, e tra due giorni dopo da Tiger c'era questo tacuino, identificato come tacuino, è molto bello, e ha praticamente all'interno i tre quadernini, uno a quadretti, uno a righe e uno tipo bullet, ed è proprio perfetto per annotare queste cose qui, e quindi ho cominciato, io faccio le liste delle cose che metto nelle borse, e mano a mano che poi le metto nelle borse, le spunto, e mano a mano che porterò giù le borse, spunterò le cose, così ho sott'occhio che cosa ho già messo via, è l'unico modo, secondo me, quando si fanno questo genere di trasferimento così grosso, cioè io le liste le faccio anche per le valigie da due giorni, per i bagagliamano dell'aereo, per capirsi, però quando c'è tanta roba in ballo, ma ma chiaro è un'ombra, ma è un'ombra, è l'unico modo, secondo me, è passato un po' di tempo, è pomeriggio, in frattempo le borse si accumulano, beh ve l'avevo fatta vedere, forse ho fatto la borsa con le scarpe, sì forse avevo fatto la clip, ma ho preparato quella mentre Dorota dormiva, che è una borsa, che è praticamente la borsa libreria, cioè ho preparato una trentina di libri che porterò giù, non adesso, probabilmente li dilazionerò in modo da averli giù all'inizio dell'estate, in modo da non dover portare giù i libri per l'estate quando scendo a giugno, ma da avere già giù un certo numero di libri che voglio leggere, ci sono i libri dei tre percorsi di lettura, i tre libri di luglio e agosto, e più degli altri che mi ispiravano particolarmente come letture da avere al mare, vedrò di registrare nei prossimi giorni, spero settimana prossima, quando i bambini torneranno entrambi a scuola, la TBR che poi vedrete giugno sul canale, la TBR estiva, però così intanto ho quella borsa lì e ogni viaggio che facciamo porto giù un po' di libri e li metto nella libreria del mare, così poi posso scegliere, lì c'è il bucato da piegare, delirio, non so più dove inquadrare, dove inquadro inquadro c'è sempre delirio. Buongiorno vlog, oggi è venerdì, primo aprile, qui c'è il tappetino da yoga perché Dorotea prima ha fatto yoga, io no perché mi si sono inchiodate le ginocchia, probabilmente ieri tra fai le valigie, disfai le valigie, tira giù scatole, non lo so, o il cambiamento di tempo, non vi so dire, qui gloomy, però non particolarmente bagnato ecco, però va va, mattinata a casa a sistemare cose con Dorotea che sta decisamente meglio, quindi direi che lunedì tornerà a scuola, finalmente, così io vedo di combinare anche qualcosa di pratico e oggi abbiamo qui a pranzo mia mamma, io tra un po' mi devo preparare per andare a prendere Gregorio a scuola, ma visto il tempo e le ginocchia andrò in macchina perché in genere andiamo a piedi o in bici perché è abbastanza vicino, ma non così vicino, però una passeggiata, una biciclettata è piacevole, ma appunto siccome ho le ginocchia increccate e il tempo comunque ballerino non vorrei neanche prendere colpi di freddo, vado con la macchina e facciamo in fretta, poi appunto abbiamo una nonna qui a pranzo, ci saranno i compiti da fare, come tutti i venerdì, e non lo so bene cosa combineremo in effetti, volevo però ieri, stavo riguardando le clip che ho registrato ieri e vi avevo promesso un aggiornamento di lettura che in effetti poi non ho girato e quindi lo facciamo adesso veloci veloci. Sto leggendo in contemporanea due libri, cosa che in genere non faccio e che in effetti non mi dà grande soddisfazione, in genere se leggo due libri perché uno dei due faccio fatica a portarlo avanti, o ha un tipo di lettura episodica e in effetti questo è il caso, sto leggendo perché leggere i classici di Italo Calvino, che era uno dei titoli che avevo nella TBR invernale e che non avevo portato a termine, non avevo letto e che quindi si era traslato in automatico nella TBR primaverile. Aspettate che vi appoggio perché sono scomola col braccio. Il fatto è che a me avevano parlato di questo titolo durante il corso di approfondimento specialistico sulla letteratura per bambini se non sbaglio e io non so perché ero convinta che fosse un unico saggio. Mentre invece è una raccolta curata dalla figlia di Calvino di 35 se non sbaglio saggi, articoli, testi, questa è stata raggiunta dalla mia assistente nel frattempo, nelle quali Calvino affronta i più grandi classici della letteratura. Il primo saggio, tra l'altro piuttosto breve, è quello che dà il titolo alla raccolta. Io mi aspettavo molto di più sul genere perché leggere i classici in generale, mentre invece perché leggere i classici funge proprio da introduzione molto breve e poi analizza i vari saggi. Stamattina ne ho letto uno su Stendhal, ieri leggevo Diderot, c'è stato Robinson Crusoe, c'è stato Candide di Voltaire, Ovidio, l'Odissea, quindi in ordine cronologico sono stati raccolti, ordine cronologico delle opere di cui parla, quindi Ovidio, l'Odissea e via via. Sono arrivata appunto, vi dicevo, a Stendhal, il prossimo saggio è Guida alla Chartreuse, quindi ancora Stendhal, a uso dei nuovi lettori, sono più o meno qui, però chiaramente non è una lettura di quelle super appassionanti ed è episodica, episodica, quindi si può interrompere. Quindi ho deciso di alternarla. Dorotea, Dorotea, abbassa il volume. Abbiamo 200 metri quadrati di casa, lei deve stare, dove sto io. Trova la trova, è qua e lì. Guardate se mi sposto. Il, ma adesso che chi conosce i bambini sa come funziona, che è il motivo per cui non riesco a registrare video in questi giorni in cui sarei a casa bloccata, sarebbe perfetto per registrare video, ma non è fattibile. Il secondo libro che ho iniziato è L'Età d'Oro di Kenneth Grahami, che è la lettura del percorso dedicato ai, chiamiamoli classici, ai libri, sì, classici, li avevo chiamati se non sbaglio, la Macedonia di lettura. La mamma sta facendo una cosa adesso. Sì, tira fuori le tue carte yoga, vieni. Quello è il libro di mamma. Fai yoga, sì, c'è lo scotch, perché quelli di libraccio mettono degli adesivi malefici. Dicevo, il percorso legato alla Macedonia di lettura e quindi a quei libri un po' classici, verrà il mal di mare, vabbè, L'Età d'Oro, L'Età d'Oro di Kenneth Grahami, che è un romanzo nel quale il protagonista, attraverso una lente bambina, ci racconta l'infanzia. Ci sono delle descrizioni molto liriche e il primo, dei capitoli geniali, il primo capitolo che è quello dove lui distingue nettamente l'infanzia dall'età adulta è pazzesco, sono delle vere perle. Anche in questo caso però è una lettura che prosegue per episodi, nel senso che non c'è, cioè il fil rouge della narrazione è l'infanzia, i giochi dell'infanzia, la sua infanzia in questa villa di campagna con i fratelli e i cugini, e questi zii che si prendono cura di loro, ma in realtà vengono raccontati degli episodi singoli che lui raccoglie per tematiche, tipo l'altro giorno ne ho letto uno bellissimo sui giochi delle bambole, che si chiama Fantocci e Peccati, è bellissimo. Hanno l'autonomia di racconti, racconti con gli stessi protagonisti in qualche modo, quindi molto episodica, quindi anche in questo caso li sto alternando per questo. però quando io alterno le letture, di base, il ritmo di lettura si abbassa, perché mi manca quel coinvolgimento che ti fa macinare più pagine. Però tanto in questi giorni, come potete immaginare, non è che abbia esattamente tutto questo tempo, neanche delle mezz'ora intere da concentrare alla lettura, quindi vanno bene questo tipo di lettura, ecco. Bello però, molto molto bello, questo mi sta piacendo molto. Mamma, mi ha toglie da me. Cosa? Mi ha toglie da me quelli. Eh, e adesso? Fai le posizioni, pesca una carta e fai la posizione. Sta giocando con questo che è un gioco bellissimo di Hedu. Prendi una carta che gliela facciamo vedere. Sono le flashcards dello yoga, con le posizioni, davanti c'è l'animale e dietro c'è il bambino che simula quello che è la posizione, come dovete farla. Come queste qua. Vediamo se la mia assistente ce ne porta una, me la presti? No. No. Che carta è? Quella della farfalla. La farfalla. Ma come? Non è proprio così però la farfalla. Quindi la farfalla fa questo e dietro c'è la posizione della farfalla. Giusto? Qua è il naso che cola, adesso andiamo a asciugarlo. Eccomi qua, sono in macchina. Ho appena parcheggiato. Qui? So, tipo lì, ecco. Sara, dimmi, si può parcheggiare qui? Ma non è fai... Forse, diciamo che per il tempo di andare a prendere i bambini a scuola ogni tanto chiudono un occhio, ogni tanto no, ogni tanto sì. Diciamo che sono abbastanza risicata. Ci sono 3-4 minuti all'uscita. Non dovrei correre i grossi rischi. Aiuto. Mi è rimasto incastrata. Ma vado a recuperarlo. E mettiamo fine anche a questa settimana scolastica. No, ce l'ho io nella tasca. Dorotea? Ehi, sei pronta? Andiamo? Dove andiamo? Sì! Buongiorno, vlog. Oggi è sabato mattina. Dorotea mi ha rubato il cappello. Mi ha rubato il cappello. Mi ha rubato il cappello. Andiamo. Buongiorno, vlog. Mi vedete un po' scompagnata rispetto a prima. Vi ho appoggiati un attimo sulla poltrona perché volevo mostrarvi due cose che abbiamo repiterato oggi in giornata. Sono andata a fare delle commissioni, dovevo fare dei pensierini che ho provveduto a fare. Ecco, eccoci qua. Prendiamo dei regalini, delle cose così. Ok. Abbiamo recuperato un pezzo di regalo di compleanno di Gregorio che compierà gli anni settimana prossima. e a casa nostra tradizione vuole che per ogni circostanza, festa, eccetera, ci sia sempre un libro. E quindi ho recuperato un libro. In genere ne approfitto per prendere libri un po' speciali, tipo di grosso formato. In questo caso è un libro di divulgazione sulla storia. Però prima ho fatto un giro in un centro commerciale, ho preso due o tre cose da H&M. Ne approfitto per farvele vedere. C'erano ancora degli sconti. Allora ho preso per Dorotè questo kit carinissimo della collezione di Angela McKay per H&M. che sono due pezzi, ma era venduta insieme, la magliettina bianca con i volant sulla spalla e questa bellissima salopette di lino, fiorata, molto molto bella, che era apprezzata da 29,99 euro, 11,99 euro. E questa non gliela farò vedere perché gliela farò un pacco con un po' di cose per il compleanno. Dorotè nonostante compia tre anni è già totalmente infissa per questo genere di cose, quindi. E idem le ho preso un paio di occhiali da sole nuovi, che userà quest'estate. E quindi questo se lo vedrà recapitare per il compleanno. E voi direte, chissà come mai Dorotè ha la fissa degli occhiali e degli occhiali nuovi. Sì, ho preso per me a 7,99 euro della linea Divided. Scusate, ma mi piacciono un sacco. Tra l'altro questi qua sono perfetti per la spiaggia, per l'estate, perché la salsedine, la sabbia, eccetera, rovinano moltissimo le lenti e le montature e quindi è un assoluto spreco portare in spiaggia delle montature più di pregio, che si sono pagate più soldi, ovviamente per esperienza. E siccome appunto la previsione è di passare molto tempo sulla spiaggia quest'estate, speriamo, mi sto procurando degli occhiali adeguati. Ok, ce l'ho fatta a togliere tutte le cose. E non lo so, mi facevano simpatia, fanno spiaggia, estate, mare, quello che devono fare. E poi cosa ho preso? Poi ho preso, c'era una promo sulle calze, c'era il 3x2 sulle calze, ho preso 3 paia, tra l'altro la composizione non è niente male, perché hanno il 70% di cotone, quindi non male. nuvolette, fragola e il color lilla con questi piccoli volant, se devono uscire magari da qualche scarpa un pochino bassa. E poi mi sono preso un paio di orecchini molto carini, secondo me, me lo faccio o me lo dico, a 6,99 euro, che hanno questa faccia, questo volto. Posso provarlo? Sì, non ho niente in questo orecchino. Aspettate che li provo, allora proviamoli live, nonostante già la collana sia abbastanza impegnativa. Belli, vi dirò. Nonostante siano grandi, proprio perché sono solo un profilo, risultano veramente molto carini, secondo me. Proviamo anche il secondo. Non sono neanche così impattanti. Pensavo impattassero molto di più. a me piace la bigiotteria che si fa notare, che si veda, visto che è bigiotteria, mentre invece poi preferisco la gioielleria più piccola e più fine. La bigiotteria mi piace impattante. Beh, direi che tutto sommato non sono neanche così... non urlano neanche così tanto. Belli, belli, sono soddisfatta per 7 euro. Adesso li mettiamo già via. Ecco, questo è stato lo shopping di oggi. Poi sono andata in gioielleria, nella nostra gioielleria di riferimento, fuori città, perché non mi entrano più né la fede né l'anello di fidanzamento e quindi sono andata a farmeli allargare entrambi. Ve lo vedete che non ho più... Ho questa, che è la fede che ci siamo regalati per i 10 anni di matrimonio, ma non mi entra più la mia fede e di qua non mi sta più il mio anello di fidanzamento. Tragedia. E infatti sono corsa ai ripari. insomma, ho aspettato qualche mese a vedere se le dita rientravano, ma no. E considerando che adesso entriamo anche nell'estate e che quindi tendenzialmente le dita mi si gonfieranno, sai che c'è? Ce le siamo fatte allargare. E basta. Questo è tutto. Ciao!